Il corso Strategic Focus, attenzione e perseveranza per affrontare i cambiamenti offre strumenti pratici per potenziare la concentrazione e la resilienza in un mondo pieno di distrazioni. Grazie a tecniche mirate, impari a gestire le energie mentali, aumentando chiarezza e determinazione nelle scelte quotidiane. Questa formazione non solo migliora la tua reattività e produttività, ma ti aiuta anche a trasformare i cambiamenti in opportunità di crescita, rendendoti più preparato a gestire sfide sia lavorative che personali. Puoi scegliere se seguire il corso in modalità interaziendale nelle date programmate oppure organizzarlo presso la tua azienda, personalizzandolo sulle tue esigenze. Entrambe le modalità possono essere finanziate con fondi impresa o fondi rigenti.